scimmione riprendiamo un show allora aspetta oh merda qualche rompe coglione in giro ma che cazzo una bambola ecco guarda come tiene la pistola ma un detective ti avrebbe mai la pistola così perchè si apre così guardate si è mai in posa questi sono massacrato per benino non fate caso a me sto solo gironzolando qui aspetta che c'è un cavo ok andiamo qua ecco c'è sempre un cazzo di ah nooo ah nooo ok ovviamente ho sempre tutto va va eh infatti è un idiota nooo dammi che per forza ho capito le molotov basta finito le molotov probabilmente bisogna accenderle con l'accendino probabilmente altrimenti non come cavolo fai accenderle ho pensato dopo però maschiale finirà mai quest'incubo sono morte centinaia di persone qui oh gesù maria non sono mai caduto qui è quasi impossibile cadere ah ah buono che fogliano ehi ciao bella ma c'è dalla stanza mi stavano guarda la combinazione poi ti spadano quello se molla la cosa esplode no è la prima volta che cado ok ok anche qui bloccato qui posso entrare o cado no oh venga vi giro mi sono rotto il cazzo di fare queste cose basta cioè quando inizi a farle troppo ti rompi un po' i maroni eh ma leggermente i maroni minchia mi sto facendo sempre queste cazzo di cose vai piano i piccioni perchè mi fanno perdere equilibrio i piccioni di pinolo 1 bastardi cercavano di farmi perdere equilibrio oh no ma ci hanno sempre bombe oh cazzo mo che devo fare? che devo fare? che devo fare? che.. 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 qual'è il mio obiettivo? cazzo cazzo non si sposta aspetta forse ho capito qual'è il mio obiettivo casi capito? l'ho capito però che ci morirò troppo poco il tempo non ho capito che cazzo fare va 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 forse l'ho capito 13 secondi spingi stronzo non ce la faccio adesso vai minchia ce l'ho fatta ma cazzo non.. come cazzo ho fatto? che culo madonna lì c'è stato parecchio asse di mezzo eh porca troia ho voluto un soffio il culo oh crishina manichini ovunque altro oh merda guardate no dai mi ha rotto il cazzo jigs almeno ho inventato i giochi migliori eh i enigmi migliori cazzo eh minimo devo scoprire la combinazione ve lo dico io che è così beh almeno non è a tempo aspetta un secondo magari 0 6 0 6 6 1 5 6 dov'è? porta sigillata aspetta questa luce si è spenta mi pare non ho ben capito eh si spendono si spendono si spendono si spengono ah se non scende uno si spegne l'altro ok si per forza magari sto sbagliando io il senso va non so come ho fatto ma vabbè 206 oh ottimo elettricità penso che sono da staccare i fusibili o meno posso salire qui ok passando del piano e siamo a posto gente leggermente zaurita c'era qui ah 206 e il codice ora non ricordo dove devo andare ok ragazzi allora siccome andando da quella parte c'è quella trappola di merda che non so esattamente se è così messa tanto per non lo so comunque io provo ad andare di qui però se è sbagliato andare di qui dovrò tornare giù e riuscire a risolvere quel cotto di enigma sì era 206 il codice mi pare qui siamo già venuti sì lo mettiamo indietro allora gillata si era qui era qui fa un culo cioè io stavo cercando di risolvere quelle minchia mi dà troppo fastidio quel cazzo di enigma non ne avete idea cioè magari una stronzata ma io non ci riesco e mi fa incazzare ah madonna quindi è qui lo stronzo 206 usa la combinazione 206 mi serve il coglione gli sparo ucciso vediamo come esplode coglione ho ancora proiettili però tra cui no la molte se ne frega qui è qui è qui qui è basta basta minchia che palle non c'è un armadio normale tutti devono risolvere un cazzo di enigma ma vaffanculo e basta minchia guarda troppo è troppo però ma che cazzo non so se sto andando nella direzione giusta lo spero vivamente che cazzo fai coglione minchia rischio la vita per tre volte totale in totale che sta di merda spero che la zona sia giusta da qui no non è giusta da qui no non è giusta da qui allora aspetta un secondo dove cazzo sono gli obiettivi mi sa che qui non ce l'ho neanche venuto però l'ad aspetta fatemi scendere nel dubbio scendiamo vediamo dove andiamo ma forse ce l'ho venuto si ce l'ho venuto mi pare vediamo dove sbocchiamo ma dove troviamo una porta chiusa qualcos'altro credo sia la zona sbagliata vediamo no non è quella sbagliata guarda che rumori no ti prego no ti prego non ti prego No, perché lì vedevo che c'era Ma è merda No, che palla Lasciatemi i coglioni in pagina Voi questa cazzo di troppola è di merda Due coglioni Miche non ci riesco a risolverla È una troppola del cazzo Chiunque l'abbia creato è un figlio della merda Aspetta eh Così è già qualcosa No Spero qualcos'altro Così è già Più o meno No Porco il mondo Non c'è il tempo per fare queste stronzate da coglioni Minchia Forse ci siamo Forse un cazzo Minchia che Minca Ti giuro che mi incazzo troppo Ma è possibile Fareste minchiate No Minchia che mi scivola il mouse Diobono Minchia 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 che mi incazzo troppo Ma è possibile Bambino Bambino Gesù Ma Ma sono morto Sono morto Morto Perché tanto sono morto Vaffanculo Mi ha rotto il cazzo Eh cazzo Ce l'ho fatta Ma vaffanculo Minchia che incazzo Voglio solo vedere cosa c'è qua dietro Porca troia No vi giuro Ragazzi Quell'enigma Sarà semplice per voi Ma a me fa veramente Ma veramente Incazzare Ma molto Non avete idea Eh Madonna Oh Io mollerei questo gioco Solo per quel cazzo di enigma Che nervi Guardate Dove è quel figlio di puttana Da salvare Minchia Questo che sventi Risogna Io proprio la porterò troppo Ok Madonna Minchia Almeno qualcosa di normale Poi c'è completato Ok dai Allora Vediamo sta merda Vabbè Non credo sia abbastanza Non credo sia abbastanza difficile Non credo sia difficile Ma la testa è qui Siamo una testa Ecco Iniziamo già Inizia già a prendere forma Eeeh E' come dire Con la merda Nel triciclo Quindi Direi che siamo qui Più o meno Di altezza Così E' come dire E' come dire Ecco No 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 Ecco Siamo magari Fai vedere Ecco La faccina di merda Così Così E' già un inizio Così Lo sarà più su No Cazzo di parti sono queste Oh anche con il puzzle Sono scherzo L'ommetto Così 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 Non credo proprio Così Eh così Sì Però Scrum è più su Dove cazzo Oh merda Ho perso una parte Mi manca Ah no c'è No un cazzo Mi manca un pezzo di Della sua faccia di merda Eccola Così Questa parte Ok Così Ottimo Ehm Manca Così qui No un cazzo Questa dove cavolo è Non lo so Prendiamo Ecco Il mosaico Prende forma Oh sì Allora poi Qui Eh 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 Sì Piano Piano Ce sto facendo Ehm Ehm Mettere qui Qui Qua Eccolo Beccato Questo credo Questo Che fa da qui Oh sì Ehm E poi Oh sì è giusto Oh sì è giusto Quasi Quasi forse Forse faccio cambio E vai Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta Adesso andiamo a morire 800.000 volte Perché non riuscirò a riservare sta merda Beh Ciao Oswald minchia allora vabbè quindi sono abbastanza semplici poter riuscirci tranquillamente allora così calmati non mettermi in fretta perché peggi ok uè male l'ho risolta mica la sto già aprendo come una cozza ehm aspetta ok questo è così blu 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 mica vi sto rimpeggiando incoglionendo male così aspetta merda così sì sì zitto che ce la sto facendo piano piano qui c'è qualcosa che non va fatto oh ma lo sto facendo oh ma lo sto sempre aprendo di più minchia altri madonna sono sempre più complessi questo è il se Robert a questo è stato rimposto a istitiversi Qui non arrivo Corrente Why Perché non arriva corrente qui Perché questo non è collegato Aspetta Questo mi distrugge le braccia Aspetta qui c'è energia Sì Oh merda Dai tanto volete vederlo come crepa Lo so Cazzo merda Cazzo devo mandarle a corrente anche qui Però C'è un cazzo non fa Così sì però Ok 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 piano Calmo Merde mu Allora devo mandarle anche qui allora Come faccio Arrivo fin qui Cazzo questo non lo avevo collegato Collegato È morto questo qui è morto Quello dico io Aspetta come lo collego Cazzo Aspetta Oh Merda manca l'ultimo Come me lo collego l'ultimo Oh wow Aspetta Merda Mi rimane uno scollegato Non ci credo che per uno mi fotte Oh per uno No No Ma no Ma poi a noi che dovrebbe fottercene Cioè guardate lui poi com'è Come dice Mannaggia Ne ho ucciso un altro Cioè a noi che ce ne fotte di salvarli Così Madonna santa Ma fa l'ultimo Madonna Cioè l'ultimo mi manca Perché non conneta Sìììì Cristo Ce l'ho fatta Madonna ce l'ho fatta oh non lo so ricordi di cercare la mia mail e andare a prendere un po' di acqua e magari... ron cosa ha detto? credo che conosco chi è Jigsaw credo che è in questo posto solo bisogna trovarlo lo troveremo? ma abbiamo anche la palla al piede assieme aspetta mi cazzone questo qui secondo me muore ecco beh mi fa oltremodo piacere averlo salvato ed è morto due minuti due secondi dopo non due minuti due secondi dopo cioè io mi sono rincoglionito per salvarlo seriamente in quel cazzo ultimo enigma mi sono rincoglionito perchè l'ultima versione mi faceva impazzire ed è morto così come una merda cioè ma si può essere più coglioni ditemelo voi minchia ma questo soggetto non vuole esprimere esprimere mi piace prima vedremo 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 è questo è questo e questo Svelo il prossimo indizio di Jigsaw Allora qui non posso salire Questa è poco ma sicura Qui è bloccato Vediamo qui se c'è Oh merda Inculati No ho finito il colpio da pistola Grazie della siringa mi serviva Perché l'avevo usata Ecco guardate Oh sempre la stessa cazzo di cosa Minchia Ormai lui è morto Anche se esce fuori di qui è morto Ha tante di quelle malattie No 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 poveraccio Mi dispiace per te Chiodo è vivo Eh devo chiudere sicuramente la tubatura Del vapore Forza Non credo che manchi molto alla fine Stiamo procedendo Abbastanza spediti Oh crisi Aspetta No 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 Mi arrivo No Che palle C'è un altro giro da fare Sono sicuro Ok Balle giganti Prima Dai Dai Minchia Ah vediamo se posso Ma te va No non ce la arriva Non ce la fa un culo Perché cosa me ne fotte Vaffanculo Basta Minchia Sono troppo incazzato ragazzi Se non avete idea Alcuni anime E sono facili magari Però Magari A forza di sbagliare Poi Ti incazzi Cioè diventano frustranti Non vi dirò di superarli Per andare avanti Perché veramente Poi sono sempre gli stessi Minchia Un po' di varietà Almeno dammene Sono una ventina diverse Che cazzo Tanto quanto durerà questo gioco Sette ore Otto ore Siamo sempre lì Solo durato Almeno Non so Pensa qualcosa di figo Hai i diritti Per fare Un gioco figo Di So Non fai così male Non è male 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 Però Potremmo farlo anche meglio Volendo Se troppo l'esplosibile Sto creando Ma non l'ho ancora usata Cioè Non vedo un cazzo Perché ce l'altra Eh Ce l'altra vi in mezzo No Uno di voi Mi ha andato Con la macchina fotografica A check i nemici C'è lì Disorienta Lì Non so Però No No Proprio no Minchia Sto per sbagliarlo Trovare quel cazzo Di codice Sei Vieni Vieni Guardate come va giù Poglione Allora Sei Tre Sei tre Ok Non è stato mica difficile Era chiuso qui Questo povero Cristo Guardate come si chiude La trappola Ah Sei tre Otto Ok Ah 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 Taratara Manchia no Come non è giusto Tre Otto Sei Proviamo Ah Ma che cazzo Ma se c'è scritto così Put Minchia Mamma mi girano il coglione di nuovo Cristo di un Cristo Guardate Sei E su E in cima Sei Questo è un due Non un tre Puttana troia C'era quel cazzo di Minchia Mi sono proprio un tre Puttana vacca No Oggi sono fusi Sei Due Ma vaffanculo Ma vaffanculo Pieda di porco Non ti avvicinati Ho capito Ma Per forza Dovevo passare di qui Quindi un po' Mi devo avvicinare Anche se ti sto sul culo Comunque Oh Merda Is this it? The test? The test? You waste your life Looking for tests Looking for an easy fix To your pathetic life I know That's why I wanted to be tested By you To change it You waste your life Looking for a way To be tested And what is the point Of the test? I don't know How to live without it Qui c'è qualche problemino Di Sopri gli stessi Di coglioni Oddio Devo stare sempre attento Checkpoint Ovvivo Allora Le scale Sono blocchiate C'è un pannello Per procedere L'ho beccato Se l'ho messo a casa Perché penso Si aprisse la porta Mi dispiace Figlio Lasciamolo attivo In questo modo Non mi riesco a ropere i coglioni Vediamo se non c'è Qui non c'è nessuno Meglio Non abbiamo sorpreso Almeno Vediamo questo Beh almeno Non c'è il tempo Mi diverto di più Ehm Vediamo Si Un po' è giusto Un po' Poco poco Cos'è 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 Giusto Cos'è Evvivo Mi ricordo Il fusibile Non so Mai Attiviamo Quella forte È bello Camminare Camminare Nei vetri Mi diverto Sempre Sarebbe Morto Giando un bel pezzo Sarebbe stato Realistico Scritto Oh madonna Ok Puttana Ragazzi Spezza qui Let's play Ones Spero vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti